Il GLFC incappa nella quarta sconfitta consecutiva, perdendo per 4-1 nell'anticipo della dodicesima giornata del campionato di promozione in casa dell'RG. Infortuni e squalifiche hanno influito sulla prestazione dei gialloneri, col tecnico Evola che ha potuto contare su una rosa ristretta, schierando Asia nell'inedito ruolo di terzino e affidandosi in attacco a Gradito, Navanzino e Ferlito. Andamento del match a senso unico, con i padroni di casa che sin dal fischio d'inizio hanno messo in difficoltà la formazione gelese. Protagonisti dell'incontro, il classe 2004 Riella e il 2003 Maglieli, entrambi autori di una doppietta. Soprattutto il numero 8 dei Siracusani è stata una spina nel fianco per la retroguardia giallonera, ripetutamente colpita in contropiede. Unica nota positiva di giornata in casa GLFC, l'erogol del momentaneo pareggio siglato dal giovane Ferlito, che da più di 20 metri, con un potente tiro, ha colto di sorpresa il portiere di casa d'Alessio. L'attaccante, qualche minuto dopo la gioia del primo gol stagionale, è stato vittima di un duro scontro di gioco. Soccorso tempestivamente dallo staff medico delle due formazioni, è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Domenica, ultimo impegno per quel che riguarda il girone di andata. GLFC, che sarà impegnato al Vincenzo Presti contro il Comiso. Servirà ritrovare la consapevolezza nei propri mezzi e la mentalità vincente delle prime giornate, per chiudere l'anno con un sorriso. Grazie. Grazie. Grazie.